Un cordiale saluto e benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 anche questa mattina che è sabato, sabato 10 luglio, c'è la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno visibile sul digitale terrestre in tutta la regione Marche e visibile anche sui device, sugli smartphone, sui telefonini, su internet in qualsiasi momento un demand su Occhio alla Notizia, su Facebook e YouTube. Allora cominciamo come di consueto con il santo ma oggi lo facciamo dando l'enfasi che è giusto che ci sia insomma perché per noi fanesi oggi è un giorno molto importante è la festa del santo patrono, oggi celebriamo San Paterniano e dunque anche oggi nella basilica dedicata a questo santo che viene ricordato non solo a Fano ma anche in varie parti del mondo, ebbene oggi avremo alcune messe tra cui quella delle 11 e 15 celebrata dal Vescovo di Fano Trasarti che trasmetteremo in diretta a beneficio di tutti coloro che per ovvie ragioni non potranno essere presenti in basilica ma anche per la questione del Covid che ormai conosciamo bene dunque San Paterniano oggi, adesso andiamo a vedere il tempo sole che splenderà su tutta la regione Marche, in particolare sulla costa adriatica con temperature che sono stazionarie nei minimi e in lieve diminuzione ancora nei valori minimi questa mattina diciamo che la temperatura è gradevole, domenica lo stesso tempo soleggiato su tutta la costa adriatica lunedì la settimana prossima il 12 si apre con variabilità soltanto sull'Anconetano per il resto avremo tempo buono ma attenzione perché la settimana prossima finalmente avremo dei fenomeni rovesci temporali nella giornata di giovedì ma insomma tutto un po' in divenire ma diciamo che avremo dei giorni un po' di pioggia pioggia che come vedremo è importante soprattutto per la questione della siccità allora questa mattina come di consueto ci colleghiamo con uno dei tanti bagnini al lavoro già questa mattina presto sparsi per tutta la costa adriatica questa settimana siamo ai bagni Arzilla di Fano dove c'è per noi il nostro bagnino titolare diciamo così, titolare bagnino soprattutto il titolare che c'ha tutto buongiorno ecco buongiorno a te allora Nicola Tanfani per quest'ultimo collegamento della settimana vedo che intanto il cielo è splendidamente pulito sgombero dalle nuvole ma immagino sia altrettanto bella super giornata bellissima, davvero straordinaria guarda che meraviglia, ti invidio allora oggi come sarà il tempo? proseguirà così immagino? oggi sì, hanno messo tutto il tempo buono hanno si vede una nuvola in cielo quindi ci aspettiamo una bella giornata e un buon weekend allora senti, intanto nel ringraziarti per questa ospitalità volevo chiederti, ieri stavo facendo una domanda al tuo bagnino a proposito degli eventi gli eventi che solitamente in estate, in tempi normali sono sempre fitti perché ogni giorno c'è sempre qualche cosa ecco voi ne avete uno in particolare che vogliamo segnalare molto bello sì, noi con quest'anno un po' particolare con gli eventi siamo stati un pochino più tranquilli un evento a cui teniamo quest'anno è domenica prossima alle ore 5.30 ci sarà il concerto all'alba con l'orchestra sinfonica Rossini ecco quindi all'alba inteso a che ora? 5.30 insomma? sì, alle 5.30 inizia il concerto proprio per godirci l'alba quindi dal buio fino a poi quando salirà il sole ecco tutto questo dove? Lì? Nella zoo dove vi trovate adesso? sì, in riva proprio dove siamo adesso quindi un'orchestra che suona in riva al mare bellissimo, bello sì c'è un'orchestra e tre ballerini anche ok, questo alle 5.30 vi consiglio di arrivare qualche minuto prima perché ecco per non essere distratti perché poi il momento più bello è quando spunta lo spicchio in fondo al mare se il tempo lo permetterà e ci sarà ovviamente il cielo terzo il primo spicchio il primo spicchio è qualcosa di emozionante ve lo invito a vederlo poi con l'accompagnamento musicale sarà eccezionale una curiosità, te la chiedi in diretta ma non avrei voluto chiedertela prima che telefono hai? Che compagnia telefonica hai? no, non si può dire no ma sai perché? sai perché? perché è una qualità meravigliosa questa quella che abbiamo noi una qualità audio, me la direi dopo mi mandi un messaggio e lo mandiamo via grazie allora, buon lavoro grazie a voi, buona giornata allora, l'isola pedonale è legittima siamo sulla prima del Corriere Adriatico il Tar dà ragione al Comune le auto fuori dal lungomare dunque l'hotel Ambassador che aveva fatto un ricorso lo perde, perde questo contenzioso per il giudice le restrizioni alla viabilità lungo via Trieste non impediscono l'accesso all'albergo e quindi insomma diciamo è tutto regolare fanno invece il fascino della divisa in 242 per 11 posti da vigile urbano questa è la fotonotizia sul Corriere poi il report ora il virus corre forte tra i giovani che hanno meno di 24 anni in breve cade un tubo dal cantiere sempre a Pesero siamo in Viale Trieste Viale Trieste mi pare lo vedremo dopo ragazzo colpito al volto già operato ma è grave non è ma è grave sì è grave un nuovo ponte invece sul fiume Foglia è pronto il bando e poi con molti servizi ecco l'agenda contro la siccità il boom delle biciclette con gli incentivi scatena anche i ladri vendite e furti record a Fano sono stati mesi fortunati per la vendita delle due ruote ora lo sono per i ladri di biciclette almeno cinque a settimana a Fano vengono rubate ai proprietari quindi le vendite tra il 2020 e il 2021 nei primi mesi di quest'anno grazie al bonus ha superato ogni previsione la prima pagina invece del resto del carriere di Pesero eccola qua isola piedonale vince il comune poi la fotonotizia la grande sete che disastro vedete si cita da paura furti danni per coltivazioni e animali un runner un corridore è stato colpito al volto da un travetto che è precipitato da un cantiere tragedia sfiorata in zona mare un pezzo in alluminio volato dal quarto piano poi la campagna vaccinale quella che riguarda gli over 60 camper e open day per raggiungere chi ancora manca l'intervista è a Saltamartini poi ucciso dal covid il jeep archivia la denuncia della famiglia il caso dell'autista del 118 la boccata d'ossigeno invece per questa manifestazione di paracadutismo con eventi sportivi allegati il turismo a Fano fa già il botto e poi in 300 all'assemblea per dire no al biodigestore sotto invece la nuova avventura di Stocchi e Berloni nasce Academy per la moda made in Marche il freccia bianca salta invece la fermata di Pesero viaggiatori costretti a scendere a Rimini questa è una storia che si ripete ogni anno puntualmente il virus ora contagia i giovani invece il titolo dal Corriere di questa mattina il 55% dei positivi è sotto i 24 anni a gennaio un positivo su 3 invece era over 60 a luglio la quota è scesa sotto il 10% questo è c'è l'articolo di Sconocchini questa mattina ma c'è questo grafico che come vedete è molto interessante perché seleziona indica i positivi per classe di età e mese per mese e questo già se avete tempo per leggerlo e guardarlo così attentamente ecco si può vedere come ci sono stati mesi chiaramente duri difficili ma poi guardando la fascia d'età si capiscono già molte cose intanto guardate 0-2 anni la prima riga in alto la fascia di età 0-2 anni a gennaio addirittura c'erano bambini positivi con meno di 2 anni 56 ma poi sempre a salire fino ad arrivare a marzo che è stato un po' marzo-aprile sono stati i mesi più difficili sicuramente marzo lo è stato per tutti ma addirittura 149 bambini positivi sotto i 2 anni poi ovviamente mentre tutti gli altri le altre fasce di età salivano nella fascia degli 80 anni 80 ai 90 anni invece man mano che si andava si va verso l'estate vedete e quindi alla vaccinazione e quant'altro si va scemando si va vanno diminuendo infatti da gennaio 529 vedete i 90 anni poi già dimezzati a febbraio e mentre tutti gli altri salivano vedete a marzo tutte le fasce 25 45 60 anni salivano gli altri scendevano chiaro anche i 90 anni sono saliti ma leggermente rispetto a tutti gli altri da 277 a 328 poi un calo fino ad arrivare a zero nel mese di luglio non c'è nessun positivo per il momento sia sotto i due anni sia sotto i 90 anni sui 90 anni intanto per l'istituto superiore di sanità le marche la nostra regione sono a rischio moderato questo perché perché ci sono molti focolai soprattutto nel Ascolano nel Piceno come abbiamo visto le marche secondo l'analisi epidemiologica settimanale effettuata dall'istituto superiore di sanità inserisce la nostra regione la regione marche fra le 8 che non hanno più un basso impatto dei contagi covid e questo insomma è un piccolo segnale un piccolo problema intanto l'RT è il più basso d'Italia 0,44 seguito dalla Liguria e dal Molise con 0,45 intanto la variante Delta non fatevi ingannare o meglio non fatevi prendere troppo dalla paura su questa variante Delta che arriva corre nelle marche eccetera eccetera perché è normale questo purtroppo cioè nella sua drammaticità ma è normale perché ormai c'è questa così come lo era l'inglese qualche mese fa adesso abbiamo la variante Delta e quindi sarà lei a prendere il sopravvento siamo ad oltre 30 casi la provincia di Pesaro resta quella con meno infettati dalla indiana nei restanti territori è invece forte la prevalenza rispetto a quella inglese intanto l'esperto Silvestri Guido Silvestri docente ad Atlanta con radici senigallese invita a tenere i nervi saldi a vaccinare rapidamente e a vaccinare tutti e poi fa la consueta analisi sulla sua rubrica Facebook numeri in pillole intanto dalla provincia di Macerata sul Corriere Adriatico morto a 59 anni il giorno dopo il vaccino eseguita l'autopsia servono altri esami il medico legale dice sono necessari accertamenti istologici il fratello però della vittima dice mio fratello non è mai stato male adesso aspettiamo di conoscere gli esiti dell'esame il medico legale ha effettuato dei prelievi per poter eseguire le successive analisi di laboratorio che cosa è successo lo racconta il giornale questa mattina con questa ricostruzione lui si chiamava Luciano Bettucci oggi alle 10 sarà celebrato il funerale nella chiesa di Santa Maria della Pace ma dicevamo Bettucci questo signore aveva ricevuto la prima dose di Pfizer nel tardo pomeriggio di lui discorso e quella stessa notte aveva avuto una forte nausa aveva rimesso tre volte poi quindi vomitato poi al mattino la guardia medica gli aveva somministrato un antiemettetico e alle 18.30 il dramma Bettucci si era alzato dal letto aveva raggiunto il bagno e lì si era casciato a terra prima di sensi quindi una morte fulminia intanto i contagiati sono come dicevamo i giovani i giovani che vanno in vacanza in questi giorni queste settimane vacanze premio chi perché è stato promosso chi perché siamo semplicemente in estate comunque il titolo del Corriere di Oggi da Civitanova a Monte Cosaro contagiati durante la vacanza in Spagna cinque liceali neomaturi hanno deciso di rimanere in quarantena però a Barcellona quindi con senso come dire di responsabilità gli altri compagni sono invece in isolamento in Italia ecco nessuna assistenza dicono i genitori un po' arrabbiati da parte delle autorità catalane e quindi sono là diciamo a nostre spese dicono appunto i genitori sono cinque ragazzi due di Civitanova due di Monte Urano e uno di Sant'Elpidio a mare che sono stati che sono risultati positivi e però sono rimasti in Spagna dopo essere stati male per qualche giorno adesso sono asintomatici però rimarranno in quarantena almeno fino al 14 di luglio e quindi pagandosi le spese eccetera per rimanere là e la cosa strana è che nessuno è stato contattato dalle autorità spagnole per seguire una specifica procedura e giustamente i genitori dicono sono ragazzi che alla fine tutto sommato hanno dimostrato un certo senso di responsabilità perché avrebbero potuto prendere l'aereo nessuno ha controllato Green Pass e quant'altro avrebbero potuto prendere l'aereo quindi contagiare tutti in aereo arrivare in Italia insomma avrebbero ma sono stati bravi tutto sommato e quindi con senso di responsabilità sono rimasti là la pagina di Macerata riguarda la morte purtroppo di un papà di soli 44 anni in questo incidente terribile con la motocicletta papà muore nello schianto la vittima è Paolo Mercuri è un dipendente dell'Asur che si era trasferito a Morrovale da Macerata ma lascia la moglie e due figli ma soprattutto è un ex pallavolista quindi era conosciutissimo da tantissimi giovani perché allenava nel vivaio della Med Store la squadra di pallavolo ma anche nella Lube eccetera è un ragazzo speciale lo dicono tutti impossibile crederci mentre Isola del Piano torniamo in provincia di Peso Urbino è in lutto per la morte di Battistoni l'ex sindaco Paolo Adriano Battistoni a lungo sindaco di Isola del Piano è morto a 76 anni ha ricoperto l'incarico per ben 25 anni in due momenti una lunga malattia poi la fine oggi il funerale il funerale si svolgeranno con partenza del feretro dall'ospedale di Fossombrone alle 9.45 poi la funzione funebre alla chiesa parrocchiale di Isola del Piano lascia la moglie Loredana i figli Laura e Alessandro e altri insomma quindi questa è la notizia dal resto del Carlino la cronaca da Pesaro travetto volo da un'impalcatura un runner un corridore quindi di quelli che corrono a piedi è stato colpito questo pezzo di metallo è prima rimbalzato sulla pista ciclabile poi lo ha ferito al volto e adesso è grave questo trentenne pesarese che correva sotto purtroppo in quell'attimo è stato portato al reparto maxillo facciale di Ancona per essere sottoposto ad un intervento chirurgico anche il Corriere Adriatico ne parla il titolo precipita tubature dal cantiere il ragazzo colpito al volto è grave l'incidente in Viale Trieste il 29enne è stato ricoverato a Torrette ed è già stato operato poi fa il matto in carcere trasferito a Modena un detenuto violento a processo intanto fuori da Villa Fastigi e sotto perseguita i vicini di casa 88enne finisce alla sbarra ingiuri aggressioni fisiche fino all'apoteosi del lancio di Sassi parole volgari contro una donna di 50 anni terrorizzata e che non usciva più di casa in 242 sulla pagina di Fanno del Corriere per 11 posti da vigilo urbano le assunzioni con troppo ritardo caccia al posto fisso mercoledì il test fisico poi le giorni dell'Udc dice forse a disposizione il prossimo anno poi le impronte femminili di Mara domani apre la personale della Cerri artista completa dal titolo Piccolo Drago poi i primi 11 anni della Memo festa nel giorno del patrono sport e paracadutismo tutto esaurito in hotel sempre a Fanno una boccata d'ossigeno per il turismo cittadino dopo le difficoltà legate alla pandemia in arrivo italiani ma anche stranieri il presidente degli alberghi consorziati parla di importantissimi eventi sportivi chiaramente che muovono poi non solo gli atleti ma anche le famiglie al seguito intanto parlavamo di siccità anche nei giorni scorsi chi ha seguito il nostro telegiornale abbiamo intervistato l'ex responsabile dell'osservatorio di Pesaro un millimetro di acqua a giugno soltanto un millimetro di acqua è caduto nel mese di giugno a Pesaro insomma un po' in tutta la provincia zero a luglio la siccità rovina coltivazioni e animali raccolti di girasole e mais a rischio solo nel 1945 nella storia meteo di Pesaro si è registrato un valore inferiore di precipitazioni il presidente della Coldiretti Tommaso Di Sante dice per dissetare bovini e ovini si sta dando fondo alle ultime riserve e poi da oggi a Pesaro a proposito di siccità razionato l'utilizzo dell'acqua potabile permesso solo il consumo alimentare domestico e per l'igiene personale quindi da oggi come richiesto tra l'altro dal lato che è l'autorità d'ambito territoriale ottimale per limitare c'è questa ordinanza che servirà a limitare l'utilizzo di acqua potabile del pubblico acquedotto in questo periodo di siccità e quindi non si potranno lavare le automobili privatamente riempire piscine quindi quelle insomma solite che si comprano e poi si mettono in giardino le fontanne ornamentali le vasche da giardino insomma tutto quello che non è uso alimentare e tutto quello che non è l'igiene personale ecco il resto l'acqua non si può usare tutte queste disposizioni sono valide fino al 30 di settembre questa è l'ordinanza del comune di Pesaro adesso andiamo poi ogni comune ha la sua ordinanza quindi qualcuno permette soltanto la sera di una volta alla settimana l'annaffiamento dei giardini qualcun altro no qualcun altro quindi leggete bene l'ordinanza per non incappare in eventuali multe intanto a Barchi terre roveresche anzi in 300 per dire no al biodigestore è un'assemblea pubblica a Barchi sull'impianto di trattamento dei rifiuti organici non c'entra nulla dicono gli organizzatori e coloro che sono contrari non c'entra nulla questo biodigestore con il nostro territorio Mancini domani gioca l'Italia l'allenatore il Mancio è di Iesi lo sappiamo benissimo insomma Iesi si sta preparando per seguire appunto queste vicende calcistiche con il loro condottiero che è appunto il Mancio maxi schermi poster tovagliette tutti con Mancio per la finalissima stampati 2200 coperti a tema per ristoranti e cibo d'asporto messa anticipata persino a San Sebastiano ora io ho evitato di leggervi il carriero nazionale dove invece in tutta Italia si sta cercando di limitare al massimo i maxi schermi gli assembramenti tutte queste cose qua perché perché abbiamo visto che effettivamente quando c'è troppa nonchalance e quindi assembramenti tra giovani e l'occasione domani sera se vincerà l'Italia come speriamo tutti sarà proprio quella appunto di festeggiare l'occasione è ghiotta per il virus non per noi per il virus quindi questi maxi schermi tutte queste cose visto che le marche viaggiano un po' così così io ci penserei un po' ci penserei un po' e intanto c'è poco da festeggiare in casa Granata perché perché non si sa ancora per quanto riguarda la squadra di calcio cittadina che cosa del Fano che cosa succederà in che mani finirà però Massimiliano Valbadoro questa mattina che ha sempre notizie fresche di giornata e che cosa scrive scrive che ormai c'è solo Russo Russo è un imprenditore casertano Mario Alessandro Russo che vedete in questa fotografia che ha già credo firmato un preliminare e che probabilmente diventerà il nuovo presidente il nuovo proprietario della squadra di calcio fanese ora insomma è quasi certo ormai che Fatto Fidani quindi l'attuale presidente San Benedettese di 53 anni lascerà il posto a questo imprenditore casertano che di anni ne ha qualcuno di meno credo 49 se non ricordo male 47-49 ma comunque poco importa questo imprenditore opera nel settore informatico applicato alla sanità eppure in ambito immobiliare è anche consigliere comunale quindi fa anche politica ed è nelle file nelle fila di Italia Viva ma c'è anche qualche altra squadra di calcio che milita in categorie inferiori per esempio il Boiano nell'eccellenza molisana e delle Aquile Rosso Nero Caserta nella promozione in promozione ora pare che appunto tornerà qui a Fano il prossimo 15 luglio però scrive Massimiliano Barbadoro qui ci si continua a interrogare sul perché abbia deciso di investire di allontanarsi quasi 500 km da casa per fare calcio cioè perché ha comprato ha deciso di comprare il Fano visto che avrebbe magari potuto correre in soccorso della Casertana evitandole di perdere in un sol colpo la Serie C e la Serie D poi l'altro quesito invece è qualora si aggiungesse veramente alla chiusura di questo contratto chi sarà al suo fianco come manager insomma ce l'hanno un po' con Simone Bernardini che è il direttore generale e il direttore sportivo Traini i tifosi da quello che abbiamo capito insomma non vogliono che rimangano questi due soggetti sportivi personaggi sportivi e quindi insomma ci si domanda anche chi affiancherà eventualmente Russo se porterà da Caserta un team oppure lo troverà qui in zona insomma queste ed altre cose insomma bollono in pentola in casa Granata io vi ringrazio come sempre per averci seguito il commento alla stampa finisce qui vi ricordo alle 11.15 giusto Riccardo 11.15 l'appuntamento in diretta con la Basilica di San Paterniano per la messa solenne celebrata dal Vescovo Armando Tresarti nel giorno in cui appunto Fano festeggia il suo patrono stasera alle 20.30 invece l'informazione con 7 per occhio buon fine settimana a tutti di San Paterniano